...alasso proprio per accontentare le emergenze che si indirizzano, i coli di un figlio, e poi la corale di un'albino e il gioifo russo, vi auguro tanto, tutto il pezzo del mondo, buone feste e anche buon ascolto. Stiamo trasmettendo in diretta, vi ricordo che questa è Radio Aleph Rock 131 e sta per iniziare in un concerto strepitoso da parte di Tre Dupi, siamo qua a Sassari nella parrocchia di Materplesia. Buona saluta a tutti. La corale Eufonia si sta avvicinando al palco, sono molto tesi, sono una corale molto giovane, però piena di grinta, hanno un maestro molto bravo, un certo Cossu. Vincenzo Cossu è un maestro di Vincenzo Cossu, che ha creato di fatto questo attore, come dicevi appunto, di giovani artisti, devo dire con molto successo perché tutti gli anni partecipa qui all'iniziativa organizzata dalla Lega Italiana Pumori, qui il Presidente appunto è Marco Bisaglio, un medico, un oncologo, tutti gli anni quindi si organizza questa iniziativa per raccogliere i fondi e per sensibilizzare i cittadini appunto alla prevenzione, perché la prevenzione è l'unica vera arma contro i tumori. Certo, vediamo un po' questo concerto, sta per iniziare. Siamo quasi pronti di via. Siamo quasi pronti di via. Importante voce solista. Sono proprio preparativi prima del concerto. Siamo quasi pronti di via. 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 Grazie a tutti. Siamo quasi pronti di via. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.